Non so dove, ma ti ho preso. Grazie. C'è qualcun altro? C'è qualcun altro? Qua non c'è nessuno. Ok, meglio. Aia! Aia! Cosa sei? Qua! Bastardo! C'eri allora, eh? Tieni, tieni questo. Ma le tue armi! E' la tua barriera. Cosa? Cosa? Cosa sei? Bastardo! Dove ti hai nascosto a te? Cosa sei? Grazie. Cucu! Su! Questo schifoso arnese continua a rompersi. Mi servono altri dadi. Ehi, laggiù, Sol! Mi passi quella cassetta degli attrezzi? Beh, dove finire su questo? C'è qualcuno? Aiuta! Carichiamo qui, guarda. Ok. Andiamo qua. Andiamo su questa tasta. Che luce! E mo? Andiamo da che... Io non torno là giù! Rattiri! Non fa essere così terribile! Che vuoi dire? Ci sono cadaveri dappertutto! Deve essere qualcosa di speciale. Scommetto che le difese automatiche sono escluse. Il primo che entra si prende il premio, lo sai? No! Casi vento! un altro manufatto che succede no? aiuta! che succede adesso? azzalti tre affari controllate la zona! zona sicura! deve essere dentro! e che è sta roba? non vedo! vattene via da me! balli! e che cazzo sei tu? che cazzo sei tu? hai ... 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 Non guarda, non guarda, non guarda. Tu sai? Porto Porto Sparo No, secondo uno Dove sei? Dove sei? Bastardo Che Quanti siete? E quanti siete? Quanti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E così finì davanti alla corte marziale e poi espulso. Si mise a fare il poliziotto, patugliando le zone depresse con noi altri reietti. E direi proprio che non è cambiato. Sta facendo impazzire Aida e si butta alla carica facendo ciò che ritiene giusto. Ovvio. Che facile è proprio mio.